Se il nome di Matteo Dell'Anno verrà impresso nella memoria storica della Lega Calcio A8, lo dovrà, senza indugio alcuno, a questa annata da gigante tra gli umani. Come la leggenda del re Mida, che bendono dal dio Dioniso la facoltà di tramutare in oro tutto ciò che toccasse, così il bomber della San Giovannella è stato forgiato della facoltà di colpire chiunque abbia provato a fermare il suo cammino, come un vento impetuoso, un mare in tempesta, un fulmine accecante è riuscito a collezionare le sue 35 perle e fabbricare una collana di inestimabile valore che custodirà con orgoglio ed un pizzico di gelosia. Tutte le squadre sono cadute, almeno una volta preda del suo istinto killer. Chi in campionato, chi in coppa, ma poco importa, il ragazzo con la numero 9 e la maglietta più larga di una taglia non bada a queste sottigliezze. Per lui l'importante è correre, spostarsi la palla sul destro, mirare e la conclusione potete immaginarla da soli. Come da soli parlano i numeri, che lo vede un autore del 51,4% del bottino dell'anno della San Giovannella, un soldato che ha portato la sua armata in salvo, chiedendo in cambio una scarpa d'oro.